In questa puntata, alluvioni di novembre, possibile commissione d'indagine. Informatica, come difendersi dalle truffe ai danni di cittadini e imprese. Il presepe vivente di Castelfranco di Sotto. In seguito alle alluvioni dei primi di novembre, la regione ha stanziato 12 milioni per il torrente marina, affluente del Bisenzio, che sfondando un muro d'argine alluvionò Campi Bisenzio. In consiglio regionale c'è stata poi polemica per la presentazione di una mozione a ferma PD sulle risorse per gli alluvionati. Sicuramente noi non fuggiremo dalla commissione d'inchiesta che, se fatta, farà sicuramente emergere quello che è stato il grande impegno del Presidente, dell'Assessore della Giunta, della Protezione Civile, dei volontari, dei tanti giovani che hanno partecipato dopo l'alluvione per cercare di soccorrere i territori, le famiglie, le imprese che sono state colpite appunto da questa emergenza. Non faremo come ha fatto questa sera il centrodestra di fronte ad una nostra mozione che chiedeva e chiede un forte impegno al Presidente della Giunta nei confronti del Governo affinché, dopo tutti gli interventi, le visite che sono state fatte e un po' di passerelle, si dia effettivamente seguito a stanziare le risorse che sono necessarie per soccorrere le popolazioni e soprattutto per far ripartire le imprese perché stiamo parlando di quello che è il polo produttivo più importante della Toscana. Dopo i primi 5 milioni stanziati dal Governo non è seguito ancora nessun intervento e anche la richiesta di proroga di quelli che sono gli appuntamenti fiscali e contributivi è stata rinviata solo di alcuni giorni fino al 20 di dicembre e quindi noi chiediamo invece che ci sia un impegno serio, un impegno che dopo le parole vede seguire i fatti e questo lo vogliamo anche dal Governo regionale perché il Presidente ha presentato nella terza variazione bilancio pochi giorni fa quello che è un pacchetto di circa 50 milioni di interventi e tra questi il prossimo bilancio che andremo ad approvare nei prossimi giorni conterrà anche alcuni milioni per quanto riguarda i ristori alle famiglie e per interventi di cui c'è bisogno. Quindi la Regione fa la sua parte ma anche il Governo deve fare la sua e noi non crediamo di provocare nessuna lesa maestà nelle chiedere risorse che sono urgenti per la popolazione e per i territori che sono stati colpiti. Oggi è andata in scena una pagina forse ancora più triste di quella andata in scena 15 giorni fa quando la maggioranza del Governo di questa Regione ha pensato bene di non stanziare un euro per le vittime dell'alluvione del 2 e del 3 di novembre. Oggi il Partito Democratico ha portato in aula un atto per chiedere 500 milioni di euro al Governo nazionale sulla base del nulla, sulla base di una valutazione che hanno fatto alcuni parlamentari del Partito Democratico. Esiste un atto che si chiama relazione del commissario che Eugenio Gianni avrebbe dovuto fare a quello che lui ha raccontato agli alluvionati toscani entro il 2 di dicembre. Il 2 dicembre alle 9 e 10 di mattina abbiamo depositato un accesso agli atti per avere questa relazione che avrebbe dovuto quantificare i danni. Noi siamo disponibili, eravamo disponibili a fronte di questa relazione a sottoscrivere un'impegnativa di tutto il Consiglio regionale affinché il Governo immettesse immediatamente le risorse necessarie. La relazione non c'è. Oggi si porta in aula una mozione, ci viene detto ma noi non abbiamo chiesto dei soldi al Governo, anche se poi negli interventi hanno parlato di 500 milioni. Noi non abbiamo chiesto dei soldi al Governo, ma il titolo della mozione è per superare l'inadeguatezza delle risorse stanziate dal Governo. Cioè non sanno ancora quanti soldi metterà il Governo, perché non hanno fatto la relazione, ma sanno che i soldi che metterà il Governo saranno inadeguati. Questo significa strumentalizzare, fare politica sulla pelle degli alluvionati. Sabato scorso c'è stato purtroppo un altro evento drammatico per l'abitato di Marina e questo nonostante che gli eventi meteorologici non fossero eventi straordinari. È evidente che le opere di contenimento del mare non funzionano più, il 2 e 3 novembre si sono in qualche modo rotte, diciamo così, è come se ci fosse un'argine del fiume rotto, quando passa l'acqua del fiume praticamente inonda le zone circostanti, altrettanto per l'abitato di Marina. Le scogliere sono di fatto rotte, per utilizzare un termine non tecnico ma che rende l'idea, e quando il mare si alza, c'è una mareggiata che in una zona di mare è un evento assolutamente ordinario, Marina viene allagata con dei danni gravissimi per l'attività, per le abitazioni e via dicendo. Ora, su Marina gli stessi eventi non provocano lo stesso effetto. In alcune parti dell'abitato di Marina c'è soltanto un po' d'acqua di mare e strada, in altre parti c'è invece fenomeni drammatici. Perché? Perché non sono state completate le opere di contenimento e di difesa della costa che sono in capo alla regione che venga rimandata da oltre vent'anni. Su questo noi vogliamo interventi immediati, ci vuole una sommurgenza, perché altrimenti significa che la prossima settimana, facendo tutti gli scongiuri del caso, potrebbe nuovamente ripetersi un episodio del genere. Quindi si deve intervenire subito, a maggior ragione ora che quelle opere ormai desuete, comunque avevano un minimo di tenuta, sono di fatto non più efficaci, ancor meno efficaci. Quindi interventi subito da parte della regione. A seguito delle sollecitazioni della Lega, in particolar modo, un po' da tutti, ma in particolar modo della Lega, provenienti a tutti i livelli, oggi è notizia che lo stato di emergenza nazionale è stato riconosciuto anche da parte del Governo per le province di Lucca e di Massa Carrara. Una notizia importante, che peraltro è ulteriormente positiva, perché prevede l'allargamento anche a chi ha ricevuto danni, famiglie e imprese, nei giorni immediatamente antecedenti. Quindi quelle del 30-31 ottobre, che in particolar modo, dove io risiedo a Viareggio, nel quartiere, nella frazione di Torre del Lago, avevano avuto un'incidenza molto, ma molto forte, con sfollamenti di oltre 10 famiglie. Naturalmente però, come noi abbiamo sollecitato a più riprese, sia nelle commissioni, sia in Consiglio regionale, anche con atti, peraltro votati all'unanimità da tutti, seppur portati dalla Lega, è importante che a questo punto anche il Presidente Gianni faccia la sua parte fino in fondo. Perché? Perché il Presidente Gianni, in data 2 novembre, pronunciò un decreto sulla base di una legge regionale, la 45-2020, che prevede lo stato di emergenza regionale e prevede, al suo articolo 24, l'abbiamo ormai detto non so quante volte, la possibilità di attingere risorse dal bilancio regionale e naturalmente la necessità che si dia luogo a una rendicontazione dei danni, a prescindere da quello che succede a livello nazionale. Quindi è importante che anche il Presidente Gianni faccia la sua parte fino in fondo, perché le risorse ovviamente non sono mai sufficienti, sappiamo bene quanti danni hanno patito famiglie ed imprese, in realtà su tanti territori comunali significativi, peraltro il decreto del Presidente Gianni aveva immediatamente la menza regionale, quindi noi approfittiamo di questa ottima notizia che viene dal Governo, particolarmente sollecitata dalla Lega, e torniamo a sollecitare il Presidente Gianni perché faccia la sua parte. Fishing e sicurezza informatica sono temi sempre più di attualità. Le truffe ai danni dei cittadini e imprese sono in grande crescita e sfruttano la scarsa conoscenza da parte degli utenti, spesso impreparati. Per questo a Palazzo del Pegaso si è svolto un convegno con i maggiori esperti del settore. Noi abbiamo la necessità di non voltarci dall'altra parte rispetto ad un fenomeno che cresce e che purtroppo continuerà a crescere. I furti di identità, i furti informatici. Siamo abituati a difendere le nostre case con i sistemi di allarme. Dobbiamo costruire sistemi di allarme informatici, avere evidenza di come puoi essere truffato, insegnare alle ragazze e ai ragazzi a come ridurre questo rischio, perché nel futuro con l'intelligenza artificiale è evidente che il rischio di aumento di questi casi esiste. Però per poterlo ridurre è necessario che ognuno di noi sia più formato a ridurre il rischio. Questo è il senso di questa iniziativa che Feder Consumatore insieme al Corecom ci ha voluto proporre. E allora noi come Consiglio regionale dobbiamo spalancare le nostre porte, lavorare per andare nelle nostre scuole, andare a parlare nei centri sociali, nei centri di aggregazione giovanile, nei luoghi in cui si incontrano gli anziani, andare a spiegare cosa accade per ridurre questo fenomeno. È evidente che il mondo va in una direzione che è quella della digitalizzazione sempre maggiore, ma allora servono strumenti per ridurre il rischio di frodi. È un lavoro che noi vogliamo portare avanti e a cui teniamo molto. Noi abbiamo avviato proprio in questi mesi una campagna in tutta la Toscana anche di informazione, il Corecom Tour, su quelle che sono le funzioni, le vocazioni e gli impegni principali del Corecom. In questo senso l'iniziativa di oggi è molto importante, quella promossa dal Consiglio regionale e da Feder Consumatore, perché appunto dà voce fino in fondo a una delle problematiche principali che i cittadini, le aziende, gli utenti vivono quotidianamente, che è questo appunto delle truffe telematiche, delle truffe telefoniche. In questo senso c'è un lavoro anche storico del Corecom, che il Corecom svolge col concilio a web, che è quello appunto di fare un po' da mediatore, da negoziatore tra l'utente e le compagnie telefoniche. Noi successivamente crediamo che sia importante appunto coinvolgere l'insieme dei soggetti della Toscana per una grande campagna di informazione in questo senso e noi faremo proprio un bando il prossimo anno, quello Toscana e Spot, dedicato proprio a questo tema, delle truffe telefoniche, delle truffe online, in modo da premiare i migliori video che verranno proposti da tutta la Toscana. Abbiamo ritenuto di organizzarla perché pensiamo che sia un tema di assoluta attualità sul quale non si deve assolutamente abbassare la guardia e non ce n'è mai abbastanza. E quindi c'è bisogno di procedere con una capillare opera di informazione, formazione e educazione digitale dei giovani e degli adulti, perché ormai non possiamo fare a meno degli strumenti digitali per le nostre comunicazioni, per i nostri acquisti, per la nostra vita di relazione e ne facciamo spesso un uso inconsapevolmente incontrollato e questo ci espone a dei rischi gravi che è bene appunto conoscere per poterli prevenire. Sabato 23 dicembre nel centro storico di Castelfranco di Sotto in provincia di Pisa prenderà vita il presepe vivente. Una comunità che si riunisce intorno al Natale, tante associazioni che insieme lavorano per mandare un messaggio di speranza, il racconto di un'identità che è quella di Castelfranco e del suo modo di vivere il Natale. Per questo è bello che quel momento non sia un momento solo per chi vive a Castelfranco ma un momento in cui i cittadini della Toscana, da tutta la Toscana, possono andare a conoscere il presepe vivente di Castelfranco ma anche andare a vedere quanto c'è e quanta bellezza c'è in questo splendido borgo in provincia di Pisa. Un'iniziativa importante perché è un richiamo per tante persone, un'iniziativa importante per l'alto numero di persone che partecipano, oltre 100 figuranti, è un'iniziativa importante perché ci richiama a quelli che sono i valori autentici del Natale, è importante perché si svolge all'interno del nostro centro storico, luogo centrale per quanto riguarda la nostra cittadina ed è importante perché vede il coinvolgimento di una realtà associativa che è assolutamente viva. Il Comitato Palio dei Barchini si occupa appunto principalmente dell'organizzazione del Palio dei Barchini con le ruote, già è molto caratteristica dal nome, lo si capisce bene, la manifestazione e in più organizza tanti eventi durante l'anno ed oggi presentiamo appunto il presepe vivente che da diversi anni caratterizza questo periodo del Natale per la nostra cittadina. Quest'anno volevamo segnalare che siccome sono 800 anni da San Francesco che ha inventato il primo presepe vivente, quest'anno il nostro presepe vivente che si svolge in quattro piazze tipiche di Castelfranco avrà anche delle piccole rappresentazioni di come Francesco ha ideato questa cosa e quindi ci saranno anche brevi rappresentazioni di un paio di minuti, tre minuti, poi ci saranno dei cori, dei balli medievali, insomma sarà un presepe vivente molto ricco quest'anno. Grazie a tutti.